Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone africano, molto lentamente, si sta espandendo verso il Mediterraneo centrale, inglobando tutto il territorio italiano. Il caldo e l'AFA quindi ricominceranno a farsi sentire su molte località, tranne lungo la catena penninica, ovvero i rovesci pomeridiani allieveranno momentaneamente la sensazione di AFA. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 21 giugno. Al mattino a cieli sereni sulla Puglia e locali a nuvolamenti solamente sul Salento e Potentino. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci a carattere temporalesco solo sul Potentino e sulle zone di confine dei Monti Dauni. In serata cieli sereni su gran parte delle regioni, sensazione di AFA in crescita sulle zone interne del tavolire e in serata lungo le coste. Le temperature risulteranno in ulteriore crescita sia nei valori minimi che nei valori massimi, con punti oltre i 30-32 gradi. Venti generalmente deboli di provenienza nord-orientale e per quanto riguarda i mari, poco mosso l'Adriatico, più calmo lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi vi mostriamo questo splendido panorama, ripreso dalla costa tirrenica presso Maratea, che punta a sud verso i monti della Calabria. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.